Al via il progetto denominato Biciclettica, iniziativa che vede Roseto degli Abruzzi comune capofila. Non solo realizzazione di infrastrutture ma anche attività di sensibilizzazione, con una particolare attenzione ai ragazzi delle scuole e alla cittadinanza per incrementare e per divulgare una corretta cultura della sicurezza stradale. Molto importante non soltanto la sicurezza stradale, anche le infrastrutture che sono state costruite a seguito di questo progetto. Tutti i comuni stanno costruendo, anche Atri è in fase oramai quasi finale. Abbiamo risolto un grosso problema di viabilità in una zona fortemente trafficata. Miglioriamo anche la circolazione soprattutto degli studenti perché è ridosso degli impianti scolastici e quindi ci sono migliaia di studenti che ogni giorno salgono, prendono i pullman eccetera. Per cui ritengo che sia tutto estremamente positivo. Partiamo con questo progetto proprio per questo connubio tra mobilità alternativa, sostenibile e sicurezza stradale che sia il punto di partenza per un'univocità di intenti su questo argomento. L'evento nell'evento sarà lo svolgimento degli allenamenti della Nazionale per le strade dei quattro comuni durante i quali ci saranno delle soste per incontrare i ragazzi delle scuole. Sarà ospite della Nazionale Ciclismo Parolimpica con Alex Zanardi, ma dal punto di vista della sicurezza e dal punto di vista sociale perché uno degli appuntamenti clou di questo programma sarà il mercoledì 24 al Palavolli di Borgo Santa Maria dove oltre 700 alunni avranno la possibilità di assistere ai racconti degli atleti che purtroppo magari per via di incidenti stradali oggi hanno una disabilità che da limite è diventato punto di forza nell'ambito e grazie allo sport. L'evento conclusivo è previsto per sabato 27. Ci sarà l'uscita con la Nazionale Azzurra di Paraciclismo e tutti gli appassionati sono invitati a pedalare con i campioni Alex Zanardi e quant'altro. Il percorso? Il percorso sarà sulla zona costiera e l'interlande Terramano.